Il 2014 non ha cambiato molto verso il 2013. Noi aspettiamo grandi cambiamenti nel consumo. La crisi ha cambiato la maniera del consumo degli italiani. Gli italiani consumano molto più prodotti per cucinare, non prodotti tanti elaborati, ma prodotti che gli permette di risparmiare facendo una spesa più intelligente. Allora stiamo lavorando per proponere ai nostri clienti questo tipo di offerta nuova che gli permette di risparmiare in un consumo più razionale. Il scontrino del cliente italiano quando fa la spesa in Carrefour basicamente è fatto di prodotti alimentari di maniera molto tradizionale. L'italiano ha la particolarità di acquistare molti prodotti freschi. Il consumatore italiano piace molto di più di cucinare su cibi, su pranzo, su cena. Vendiamo molto di più prodotti che permette di cucinare, molto più che prodotti elaborati. La qualità dei prodotti italiani è il fatto che troviamo in Italia molte piccole e mediane aziende fa che l'offerta dei prodotti italiani le interessa moltissimo agli altri paesi di Carrefour. e oggi stiamo exportando prodotti a Belgica, alla Francia, a Romagna e stiamo lavorando per la prima exportazione dei prodotti italiani a Brasile. Esportiamo prodotti con un gesto artigianale, di prima qualità e soprattutto le ricette tradizionali, il pesto di Genova, di Liguria. Sono questo tipo di prodotti che noi domandano di più gli altri paesi e oggi facciamo grande operazione commerciale nella Francia, in Belgica. Noi, come grande azienda, come retailer, possiamo in realtà essere molto più vicini con i nostri clienti. E questo tipo di comunicazione dove c'è un'interazione in realtà tra i clienti e l'insegna è molto interessante. È una maniera di trasmettere cose un po' nuove. Lo che aspettiamo e chiediamo è che realmente i nostri clienti prendano il controllo, prendano il potere di convidere quali sono i prodotti migliori, le migliori offerte e che è piaciuto molto per realmente comunicare entre tutti su rete i buoni vantaggi che le possiamo offrire. Vediamo che anche le persone più anziane sono interessate per la rete sociale. È una grande sorpresa che abbiamo veduto in ultimi mesi che la rete sociale è il numero di italiani con un smartphone, il numero di italiani che ha una conta Facebook o che ha ascoltato questo tipo di rete sociale. È ancora molto più grande che lo possiamo pensare. Dopo di una larga riunione nel comitato esecutivo da Carrefour Italia dove la tematica era come facciamo per presentare ai nostri clienti prodotti ancora più freschi. Abbiamo pensato di invitare alcuni tennori, grandi tennori delle grandi scuole del bel canto italiano a venire come clienti cantare il punto di venita. e la scelta si è fatta sulla barbieria della Sevilla una delle operazioni più famose che parla del profumo dei prodotti, che parla della freschezza dei prodotti dove abbiamo pensato di mettere questo tennori dentro dei punti di venita come clienti normali. E vediamo sul video la grande sorpresa positiva, la reazione molto positiva dei nostri clienti. Payback è una coalizione una coalizione entre molti partner dove sono presenti in Italia Mediaset Premium e ESO e Carrefour sono i grandi partner di questa coalizione. e lo che non interessa in Payback è realmente la parola coalizione e lo che chiediamo è fare un po' lo stesso entre nostri clienti una coalizione entre nostri clienti e la GDO e Carrefour.